Siamo un mostro opposito, veramente. Fermo. Io mi vendico, dopo non fa cazzi di ruota, te lo dico. Nel nostro spettacolo noi giriamo la ruota e ad ogni giro di ruota corrisponderà una domanda. Se rispondiamo in maniera errada a questa domanda... Ci sarà una penitenza. Io seguo la Ferragni, non la seguo, seguo Vasco Bronti, il cantante, seguo persone un po' sconosciute e così ecco. Uno e due? Siamo un mostro, così, veramente. Fermo. Io mi vendico, dopo non fa cazzi di ruota, te lo dico. Vai, che cosa? All'inferno, che cosa? Ti preparati. Gira, gira, gira la ruota. Che Dio mamma di buona. Vai, 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 che sta arrivando scienza. No, fumetti. E' bello inizio a fine. Dai, io su forza. L'ora, scopri il forza. Sì, sì, sì. Davvero? Come? Vai, vai, mostra, mostra. Così insieme però, vai. Tira sulla giacchetta. Così? Che fa guardà? T'ho visto mille volte in villa. Vai. 3.500 km. Come? 3.500. Lo penso? È impossibile. Da Roma fino giù in Sicilia sono 700 km. Sì, da Roma a Milano 700. Sì, è vero. C'è ragione. E' una cosa che ho visto. Sì, è vero. 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 prego grazie ti aiuto io metà il culo come no no in bocca ciao grazie a tutti è stata una bellissima esperienza fare questo giro sulla roulette e meno male non te vedo più allora non me vedi più mamma mia grazie per averci seguito su quiz roulette e la mitica Martina spero mi voglia rivedere dai mi porta pure in braccia